Ciao sono Duke, oggi una grande notizia perché un paio di giorni fa è stato annunciato un nuovo Terraria, è stato rilasciato un teaser trailer e in questo trailer si possono vedere alcune cose interessanti. Innanzitutto vediamo che il gioco è molto simile perché vediamo innanzitutto alcuni mob che sembrano quasi identici, il modo in cui è generato il mondo sembra più o meno quello però la differenza è che ora siamo sostanzialmente in una nuova dimensione nell'universo di Terraria. Siamo su un pianeta che è un pochino più strano, il gioco si chiamerà Terraria Otherworld e infatti quindi vuol dire Terraria è un altro mondo e volevo in questo video analizzare un pochino meglio questo trailer per vedere bene quali sembrano essere le differenze con Terraria come lo conosciamo fino ad oggi. Iniziamo a vedere che il mondo funziona in modo abbastanza simile, ci sono questi sfondi magari fatti un attimo meglio che si muovono quando noi camminiamo, poi c'è questo strano macchinario che sembra una delle cose più interessanti viste in questo trailer. Quindi notiamo subito una componente un pochino più scientifica, Terraria alla fine era molto fantasy, c'era qualche componente magari di meccanismi che potevamo costruire o circuiti però non era ambientato in un mondo scientificamente avanzato. Mentre invece questo macchinario sembra chiaramente avere un aspetto abbastanza futuristico. Quindi andiamo avanti e vediamo che ci sono cose un pochino più avanzate nello sfondo come i fulmini. Questi mob qua sono molto simili a quelli che già conosciamo su Terraria quindi da questo punto di vista spero che facciano meglio per innovare i mob. Ancora quella a fare lì quel macchinario però ne vediamo anche altri, vediamo una classica pentola sul fuoco, cosa abbastanza tipica nel Terraria vecchio però anche nuovi macchinari, ingranaggi, energia, roba di questo genere. E quella vedete cosa è appena successo? Questo mi sembra molto interessante da mostrare sinceramente. Quello mino qui sta attraversando una barriera di energia che lo lascia passare ma fa un pochino di resistenza. Quindi vedete che ci sono delle cose molto più fantascientifiche in questo gioco. Sarebbe bello avere queste barriere di energia, spero che abbiano un grande peso nel gioco. Poi qua c'è questo mino, non capisco nemmeno se è sott'acqua oppure no perché sembra muoversi lentamente, si illumina quindi c'era anche già nel Terraria vecchio insomma cose che ti fanno illuminare per vedere meglio dove vai. Quest'altro mino forse ha uno scudo in mano. Sarebbe bello se utilizzassero degli scudi per davvero poter combattere nel senso di magari un tasto tira sullo scudo e potete fare una parri se fatto al momento giusto o un altro tasto usa la spada o cose del genere. Qua piovono cose dal cielo ma io non credo che siano degli attacchi di qualcun altro né delle cose che accadono nel mondo. Credo che questo personaggio avesse sparato in aria con una sorta di freccia che poi si moltiplica e ora stiano riscendendo le frecce. Quindi anche da questo punto di vista non molto di nuovo. Qua i mob ci sono mob nuovi, qualche mob nuovo beh c'era da aspettarselo e notiamo che c'è ancora qualcuno con lo scudo. Quindi magari gli scudi avranno un peso maggiore, spero che il combattimento venga approfondito e ci sia un combattimento più basato sull'abilità e sul tempismo rispetto a Terraria. Dove alla fine era solo da spammare un attacco e essere capace di evitare, mentre mi piacerebbe se aggiungessero proprio un'abilità nel parare i colpi. E niente, quindi questo è Terraria Otherworld. Direi che sembra simile a Terraria, però una cosa che non fanno vedere nel trailer ma io so che è stato annunciato, è che dicono che ci saranno più elementi RPG, quindi magari ci saranno anche delle quest, un meccanismo di quest più sviluppato di quello un po' stupido che c'era in Terraria di quel NPC che ti mandava a pescare. Spero che ci sia un sistema migliore di quest. E elementi magari che ci consentano di far evolvere il nostro personaggio, magari dei livelli. Quindi io uccido i nemici, guadagno esperienze e salgo di livelli, quello sarebbe bello. Quindi questa è stata diciamo la mia analisi fin troppo approfondita di quello che si vede in questo breve teaser. Spero che ovviamente non ci facciano aspettare una vita e soprattutto che rilascino frequentemente aggiornamenti su come sta andando lo sviluppo, perché non voglio trovarmi un altro Starbound. È tutto per oggi e speriamo che esca presto, alla prossima!